Domani la questione della velocizzazione Roma-Pescara sarà sul tavolo della conferenza dei servizi. Le amministrazioni sono convocate e esprimero un parere definitivo in modo unico e vincolante e il primo cittadino di Chieti, Diego Ferrara, ribadisce il suono al progetto. Il Ministero dell'Ambiente, con il decreto del 5 aprile 2023, ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale. La posizione del Comune di Chieti non è stata certamente decisa oggi, ma abbiamo un dossier corposo di tutto l'anno scorso ed Chieti è stata sempre contraria a questo progetto di fattibilità del DRFI per un impatto devastante sul nostro territorio. Il progetto prevede demolizioni di abitazioni con le conseguenze che si possono facilmente immaginare. La valutazione sull'impatto ambientale e la via da un lato è un ricorso al TAR del Lazio dall'altro, che secondo il CONFER, il comitato che si è costituito contro il raddoppio della linea in questione, non ha troppe speranze di successo. Sia per quanto riguarda il lotto 1 che riguarda l'abitato della frazione di Brecciarola, sia per quanto riguarda, non è oggetto ovviamente della riunione di domani a Roma, ma anche Chietiscalo è interessato da un'altra parte del progetto e anche il tessuto urbano di Chietiscalo verrebbe sovvertito. Per cui la nostra amministrazione ha più volte, ed è andata perfino in Consiglio Comunale, a dire il suo no a questo devastante progetto. Fa riflettere il coraggio del sindaco, nonostante la mediazione con la regione non abbia portato a risultati sperati, si va avanti, facendo squadra tra comuni con in cima i diritti dei cittadini. E intanto il CONFER annuncia che è pronto ad andare fino in Europa per bloccare l'opera.